Pompa per scarico condensa EasyFlow All'interno di ogni confezione di pompa EasyFlow trovate un foglio di istruzioni, una pompa di scarico condensa, il corpo galleggiante, un tubicino di collegamento 4x6 da un metro, un manicotto adattatore, due piastrine di ancoraggio per pompa e galleggiante, due biadesivi e un tubicino di sfiato. Il tubicino di sfiato deve essere posizionato sopra il corpo galleggiante ed il raccordo va sempre inserito al corpo galleggiante per permettere il collegamento del tubo scarico condensa dello split. Nella parte inferiore della pompa scarico condensa va messa la piastrina di ancoraggio. Procedere allo stesso modo anche per il corpo galleggiante. Tramite biadesivo sia la pompa che il corpo galleggiante potranno essere fissati direttamente nel vano del condizionatore. La pompa EasyFlow è dotata di contatto di allarme incorporato da 16 A. collegare il corpo galleggiante alla pompa tramite il cavetto in dotazione infilando il connettore nell'apposita presa. Il corpo galleggiante è trasparente per facilitare le operazioni di ordinaria manutenzione. Collegare l'unità interna coi tubi gas e alla rete elettrica. Utilizzare il kit di fissaggio lampo per agganciare in canalina il corpo galleggiante e la pompa a scarico condensa. Seguendo le indicazioni sul foglio istruzioni allacciare la pompa alla rete elettrica ricordandosi di collegare anche i fili di contatto di allarme. La pompa EasyFlow disponibile in 14 modelli garantisce elevate prestazioni è affidabile, silenziosa e di facile installazione.